Nome? Vittorio. Mariangela. Cognome? Crescenzi. Gasparrini. Un soprannome? Toncelò. Merkel, datomi da un sestierante Peppe Volponi. Il tuo ruolo? Console. Caposestiere. Da quando? Dal 2016. Dal 2012. Il tuo primo ricordo di Quintana? Elio Marucci, scrivettore. Il suono dei tamburi durante le prove nelle vie della città. E l'ultimo? L'ultimo la riconsegna di un gonfalone che ci avevano trafugato. Purtroppo la Quintana di agosto 2019. La gioia più grande da Quintanaro? La vittoria del palio. Essere riusciti tutti insieme a tornare ad essere vivi nel nostro sestiere. La più grande delusione? Non mi ricordo. La più grande delusione è il doping. Un momento di grande rabbia? Momento di grande rabbia perdere la Quintana all'ultima curva. Alle Quintane del 2013. L'amico Quintanaro? Tutti. L'amico Quintanaro? Tanti. Tanti. Chi è il sestiere più simpatico? Tutti. Tutti. E quello più antipatico? Nessuno. Nessuno. La vittoria avversaria che ti ha fatto rosicare di più? Tutte. Porta Romana 2013. Sei stato contento almeno una volta per una vittoria che non è stata del tuo sestiere? Mai. Francamente no. Si faranno le Quintana in questo 2020? Spero di sì, ma credo di no. Io ci spero tanto. Se potessi riavvolgere il nastro della tua vita Quintanara, cosa non faresti? Ma io rifarei tutto. Rifarei tutto. E cosa invece vorresti fare che non hai fatto o potuto fare? Suonare la chiarina. Voglio vincere la Quintana. Pensa a un cavaliere. Il primo nome che ti viene in mente? Riccardo Raponi. Raponi. Il cavaliere più forte di sempre che hai visto giostrare? Gianfranco Ricci. Ricci. E quello che ti ha meravigliato di più? Che non t'aspettavi? Lorenzo Melosso. Lorenzo Melosso. E quello invece che ti ha deluso di più? Non me lo ricordo. Andrea Leonardi. Se la Quintana non fosse esistita, a quale rievocazione storica avresti voluto partecipare? Forse il Palio di Siena. Il Palio di Siena. Definisci il tuo capo sestiere con un aggettivo. Tenace. Definisci il tuo console con un aggettivo. Leale. Chi vince la prossima Quintana? Sant'Emidio. Sant'Emidio. Un saluto ai tuoi sestieranti. Forza ragazzi, insieme ce la faremo. E viva Sant'Emidio. Allora, ci rivedremo presto. Staremo di nuovo tutti insieme. Viva Sant'Emidio.